Il dialogo istituzionale c'è sempre, ci deve sempre essere, ma qui è una questione che va avanti da tempo. Da quest'estate, quando il Governo ha deciso di fare un colpo di mano istituzionale, spropriare il Comune dalle sue funzioni costituzionali, io ho provato in tutti i modi a farlo comprendere, ho cercato sempre il dialogo, ho interlocuito con la Presidenza del Consiglio, anche col Quirinale, ho fatto capire che quella norma è incostituzionale, gravissima anche dal punto di vista democratico, che non si può pensare di ricostruire Bagnoli senza la città di Napoli, senza il Consiglio Comunale, senza il Sindaco, ho interlocuito più volte con Del Rio, quindi il dialogo istituzionale c'è sempre stato. Addirittura, devo dire, c'è talmente stato che il 14 agosto abbiamo fatto un atto che io defini importantissimo, forse usare addirittura il termine storico per la città di Napoli, un patto tra Governo, Regione e Comune, con cui insieme si decideva non solo di ricostruire Città della Scienza, ma anche di bonificare con i soldi del Governo e tutti insieme rilanciare Bagnoli. Poi è arrivato Sblocca Italia, che forse qualcuno se ne sta dimenticando in queste ore, che ha espropriato il Comune. Quello è un ritiro che ha un fortissimo valore politico, c'è un brocardo antico che dice Se il Governo decide di cancellare la città di Napoli, quella firma l'ha ritirata da un punto di vista istituzionale, democratica e costituzionale, il Governo. Quindi se il Governo ritorna sui suoi passi, noi siamo prontissimi a rimettere quella firma, altrimenti noi siamo stati espropriati. Cioè quella firma è come se uno avesse fatto un atto inutile e fosse stato preso in giro. Siccome Napoli non è una città che può essere presa in giro, in qualsiasi città non può essere presa in giro, ma Napoli è la terza città d'Italia, la capitale è il Mezzogiorno. E abbiamo dato dimostrazione di essere istituzionalmente e politicamente credibili, arrivando il 14 agosto a una firma faticosa, perché la firma su Città della Scienza è stata frutto di un compromesso politico delicato, la firma per le bonifiche era importante, il Governo non solo non ha messo risorse, ci ha espropriato. Quindi il dialogo non solo ci deve stare, ci sarà. Io sono sempre pronto ovviamente a sedermi attorno a un tavolo per ricostruire per le vie ordinarie Bagnoli. Ma quel che è ancora più grave, visto che lei ha parlato di strappo istituzionale, che secondo me non c'è uno strappo istituzionale, c'è qualcosa che mi preoccupa ancora di più, che all'interno della norma su Bagnoli si apre la strada a soggetti privati che in qualche modo sono stati anche oggetto di un'ordinanza firmata dal Sindaco di Napoli e in via cautelare confermata dal Tare al Consiglio di Stato indicati come i soggetti che hanno inquinato. E siccome in questi giorni si parla tanto nel nostro Paese di persone impunite sulla vicenda dell'Eternet, la sentenza della Cassazione, io credo che una volta tanto la politica è arrivata prima. Quindi con quell'ordinanza non solo andiamo a individuare chi ha inquinato deve pagare, ma cerchiamo di fare in modo che per il futuro si evitino altre lacrime di coccodrillo. Allora siccome io, addirittura Renzi ieri sera ha detto di sentirsi il Sindaco d'Italia, per sentirsi Sindaco d'Italia, innanzitutto deve provare a rispettare i sindaci d'Italia, a cominciare dal Sindaco di Napoli. Non c'è il rischio che vinca l'immobilismo, vero Subbagnone? Questo è un rischio, noi siamo no alla speculazione, no all'immobilismo e l'abbiamo dimostrato con quella firma del 14 agosto. Quindi devo fare una proposta per essere concreto. Ripartiamo dal 14 agosto. Il 14 agosto il Governo, la Regione, il Comune e tutte le altre istituzioni che si sono introdotte al tonno al tavolo, compreso la provincia e dal 1 gennaio non ci sarà più, avevano dimostrato di sapersi sedere attorno a un tavolo e trovare un'intesa istituzionale su aspetti che sono necessari per il bene comune. Bonifica di Bagnoli, tanto più attuale che la magistratura è dovuta ritornare a sequestrare un'area, e rilascita e riqualificazione di Bagnoli. Allora io mi chiedo, ma se i soggetti istituzionali ordinari, il Sindaco eletto democraticamente, il Consiglio Comunale e la popolazione di Napoli, il Presidente della Regione che è stato eletto anche lui dal popolo, il Governo che sta in carica per volontà del Parlamento, ma perché non lo possiamo fare noi tutto questo? Perché c'è bisogno di un commissario? Allora questa è la domanda, e soprattutto perché Renzi allora il 14 agosto non ce l'ha detta queste cose? Cioè lui firma un patto con il Sindaco di Napoli, 15 giorni dopo cancella il Sindaco di Napoli e introduce un commissario e dei soggetti privati. I soggetti, tra l'altro FinTechna, sono gli stessi destinatari dell'ordinanza. Quindi questa è la partita che si sta giocando. Non è il tema dello strappo istituzionale, è il tema di un Sindaco che ha detto no a una strada pericolosissima per la città di Napoli, per la trasparenza e per la correttezza. Visto che ci si riempie tanta la bocca in questi giorni di anticorruzione e di corruzione, io credo che forse se incominciamo a guardare con maggiore attenzione le parole nostre, che non è solo il Sindaco di Napoli, è un comune anche sentire in ambienti importanti della nostra città, forse riusciamo a prevenire che fra dieci anni dovremmo un'altra volta andare a guardare chi ha messo le mani sulla città di Napoli. Quindi io mi sono messo di traverso a un patto istituzionale che al di là delle intenzioni dei rappresentanti istituzionali rischia di essere foriero di momenti molto bui per la nostra città. Del Rio l'ha sentito al telefono oppure ha intenzione di sentirlo? Del Rio ci siamo sentiti ieri mentre stavo per salire nel binario 17 della stazione ferroviaria di Napoli alle ore 17.10 per il treno, meno male che mi ha chiamato i 10 minuti prima perché altrimenti arrivavo il treno, arrivavo alla stazione Terme e ritornavo indietro. Abbiamo avuto una conversazione lunga di 20 minuti, molto serena da un lato perché tra me e Graziano del Rio c'è un rapporto personale molto corretto e molto buo, franca, come si dice nel linguaggio istituzionale. Ci siamo detti delle cose in modo chiaro, ovviamente ci siamo riproposti di vederci a breve, lui mi ha riferito che non c'erano le condizioni istituzionali per fare quell'incontro, io ho convenuto su questo, nel senso che ho preso atto, ci rivedremo, il dialogo istituzionale continua, però voglio dire che il dialogo istituzionale deve essere fatto tra persone che si rispettano. Ecco, questo è il tema, io credo che è inutile far finta, le sceneggiate, il far vedere che si va d'accordo, oppure dire che il sindaco di Napoli si mette in una posizione isolata è grave, perché io ho sempre dialogato con tutti, se poi significa che altri vogliono mettere in una posizione di isolamento il sindaco, perché ha, come dire, in questo momento il coraggio di interpretare la volontà di molte persone della nostra città, compresa la nostra maggioranza e la mia personale, di non far mettere le mani sulla città, io credo che il buonsenso vuole che le istituzioni si sedano attorno a un tavolo, si discute e semmai si sfida il sindaco e la sua maggioranza a dimostrare se sono in grado di non correre il rischio dell'immobilismo. Siccome noi il progetto su Bagnoli ce l'abbiamo ed è molto chiaro, io mi chiedo, per esempio, questi quattro mesi che il governo ha perso perché il commissario non l'ha nominato, ha fatto una legge antigiuridica, ha violato gli equilibri costituzionali e democratici, si è messo in conflitto col sindaco di Napoli, ha creato un immobilismo, sta cercando di aprire le strade a una nuova stagione di speculazione, in questi quattro mesi noi probabilmente avremmo fatto l'accordo di programma quadro che era l'oggetto del protocollo del 14 agosto. Tanto è vero che città della scienza, invece, dove l'accordo è stato operativo, le cose in qualche modo in questi mesi sono andate avanti. Io mai come in questo momento non mi sono sentito solo da un punto di vista politico perché in queste settimane ho girato Napoli, ho girato Bagnoli, ho girato tante parti della città e il tema su Bagnoli è sentito dalla città e comunque credo che il dovere di un sindaco sia quello di indicare la strada e intravedere con chiarezza e nettezza un pericolo che c'è dietro allo sblocca Italia e in particolare alla norma su Bagnoli. Da un punto di vista politico io non mi sento affatto isolato tanto è vero che su Bagnoli c'è stata una convergenza delle forze di sinistra importanti anche alcune forze di centro ho letto con attenzione nei giorni scorsi le posizioni di Selle le posizioni del Movimento a 5 Stelle la cittadinanza ha compreso la partita poi io non ho lanciato ragionamenti generici ma ho indicato anche nomi e cognomi di chi sta dietro a questa operazione e credo che il governo l'abbia compreso dispiace ecco perché il sindaco e io penso di avere un profilo istituzionale quindi non è che sto facendo il masanello come qualcuno pensa perché io queste cose le ho dette in pieno ferragosto a Graziano Del Rio che l'ho chiamato l'ho fatto l'ho annunciato e l'ho fatto sapere più volte al presidente del consiglio che non ha mai ritenuto di ascoltare nemmeno telefonicamente il sindaco di Napoli l'ho detto al presidente della Repubblica l'ho detto a diversi esponenti del governo ho dialogato con loro gli assessori sono andati in commissione parlamentare ho parlato con tutte le forze politiche quindi quello che fa un sindaco che ha un'anima movimentista molto forte ma un ruolo istituzionale altrettanto forte l'ho fatto anche quando ero sindaco di strada quindi tutto si può dire tranne che in questi tre mesi il sindaco non abbia detto qual è il suo pensiero ma quel che è grave che io posso essere anche il peggior sindaco potrei essere anche diciamo la persona più insignificante con le idee peggiori ma in democrazia e negli equilibri costituzionali i sindaci si rispettano e io non ho mai visto fare una legge come lo sblocca Italia fatta da un sindaco che espropria una città i suoi organi rappresentativi e la sua città quindi io credo che da questo punto di vista non ci sarà mai un passo indietro quindi dialogo quanto ne vogliono ma noi rimaniamo sulle nostre posizioni e devono fare un atto di forza per eliminare la posizione politica istituzionale del sindaco quell'atto di forza istituzionale che hanno cercato di fare nelle settimane scorse lo stesso governo attraverso anche il ruolo che ha avuto il ministero dell'interno io faccio innanzitutto e vorrei fare fino alla fine il sindaco di Napoli mi sento sempre di più dopo questa esperienza di sindaco di strada il sindaco di tutta la mia città compreso chi ha idee di destra di centrodestra in queste settimane mi sento anche molto convinto che il paese ha bisogno di una nuova spinta politica meridionalista in senso diciamo vorrei dire gramciano c'è una nuova questione meridionale che non sia più di una classe dirigente di un popolo che sta col cappello in mano ma che si vuole autodeterminare e riscattare da sola intravedo ovviamente un ruolo importante per l'esperienza napoletana consolidata e rafforzatasi con l'accordo politico che stiamo costruendo con Selle siamo un'esperienza anomala rispetto al pensiero dominante del nazareno italiano adesso anche in salsa napoletana molto diffusa appunto questi patti che vanno da Renzi Caldoro per le visite diciamo a Lettiri e quant'altro noi siamo qualcosa di diverso non spetta a me dire se è una proposta migliore o peggiore è una proposta che in democrazia avere anche qualche voce come dire diversa eccetera col Movimento 5 Stelle a me piace ragionare come dire sui contenuti sulle idee che molto spesso condivido con tanti militanti anche ho avuto molti elettori tra quel popolo lì quindi io li rispetto ovviamente abbiamo posizioni anche molto diverse talvolta su tante cose però io credo che in Italia stia nascendo qualcosa di nuovo si aprono spazi interessanti a livello nazionale sicuramente a sinistra perché non si può rimanere schiacciati da Renzi che si sposta sempre di più verso centro e verso destra somigliando sempre di più a Berlusconi e Salvini che rappresenta in qualche modo una nuova destra che guardiamo con preoccupazione quindi c'è uno spazio ovviamente io da sindaco di Napoli nel mio piccolo farò sentire le mie opinioni e le opinioni come di una città che vuole contare rispettando gli altri lo dico in modo molto sincero ma anche pretendendo un po' di rispetto grazie a tutti Grazie.